Ma tu il caffè lo bevi alla napoletana o all'italiana? La differenza sta nella preparazione. Il caffè alla napoletana, infatti, si realizza con la cosiddetta cucumella, che in realtà è la versione in alluminio di un oggetto inventato nel 1819 in Francia. Il caffè in questo caso si realizza tramite infusione, che ha una consistenza e un sapore completamente diverso sia dalla moca che dall'espresso. La lentezza dell'infusione l'ha fatta soprannominare anche macchina da conversazione. Il caffè più conosciuto, invece, è chiaramente l'espresso e la moca, che furono inventati rispettivamente sul finire del XIX secolo a Torino da Bialetti, e l'altro, invece, nel XX secolo. E se si è per davvero napoletani, bisogna anche utilizzare il cuppetiello, che sarebbe semplicemente un piccolo fogliettino di carta da mettere sopra il beccuccio della caffettiera mentre si realizza l'infusione. In questo modo il vapore non fuoriesce dalla caffettiera e dà un ulteriore aroma al caffè napoletano.